Trova gli errori in queste frasi. Dov'è l'errore qui? Signora, la posso aiutare? In italiano diciamo aiutare qualcuno, aiutare lei, signora, non a lei. Usiamo un pronome diretto. E in questa frase? Dov'è Andrea? È andato in palestra. Andrea è andato in palestra. È soggetto e non possiamo sostituirlo con un pronome oggetto. No. Terza frase. Quando ho visto Paola, le ho dato un bacio. Il pronome LE non si elide mai. Rimane LE. Hai trovato tutti gli errori?